mentre il sole inizia il suo lento declino dietro le maestose cime del monte bisbino ci viene offerto un momento sacro un invita rallentare in un mondo che sembra non conoscere pause il tramonto con i suoi colori caldi che si fondano nell'orizzonte è un simbolo potente della fine di un ciclo e dell'inizio di un momento di riflessione e riconnessione con se stessi in quest'ora di transizione quando le luci del giorno si spengono e i rumori del mondo si attenuano abbiamo l'opportunità di fermarci di prendere una pausa dal flusso incessante delle nostre attività quotidiane è il momento di abbandonare la corsa e sospendere il fare per immergerci nel semplice essere questo tramonto ci insegna l'importanza di ascoltare il silenzio di andare dentro di noi e di scoprire la pace che si trova nel semplice atto di respirare e di essere presente in un'epoca in cui siamo costantemente sollecitati a fare a produrre a muoverci sempre verso il prossimo obiettivo il tramonto sul monte bisbino ci ricorda che c'è grande bellezza nel fermarsi nel contemplare nell'apprezzare il momento presente senza chiedere altro allora mentre osservi il sole che scompare all'orizzonte lasciati ispirare dalla pietra del tramonto e lascia spazio a queste riflessioni stai correndo nella direzione che veramente desideri o forse è giunto il momento di riconsiderare il tuo cammino e ascoltare più attentamente la voce del tuo cuore il buio che segue il tramonto non è da temere ma da accogliere con un'opportunità per far brillare ancora più forte la tua luce interiore nel silenzio nella calma che possiamo trovare le risposte che cerchiamo che possiamo riconnetterci con la nostra essenza più profonda per riscoprire la nostra direzione il tramonto ci insegna che ogni fine è anche un nuovo inizio e dopo il riposo della notte ci sarà una nuova alba piena di promesse per ora concediti questa pausa questo spazio sacro per stare con te per nutrire la tua anima con il silenzio e la bellezza che ti circonda lascia che il tramonto sul monte bisbino sia il tuo maestro ricordandoti che nella calma e nel silenzio puoi trovare la tua forza più grande quella luce interiore che ti guida attraverso i momenti di oscurità verso un nuovo giorno pieno di luce e di speranza